Negli ultimi giorni, si è mormorato molto di un possibile ritorno di Alessia Marcuzzi a Mediaset. La conduttrice ha lasciato l'azienda dopo più di 20 anni ed è approdata in Rai col suo nuovo show, Boomerissima. In un'intervista al settimanale, Diva e Donna, aveva rivelato il perché di questa drastica decisione. Ovvero la perdita di entusiasmo nel condurre programmi sulla nota rete. Avevo voglia di nuove sfide, aveva spiegato. Tuttavia, dopo il ritrovato successo della Marcuzzi, sembrava che Pier Silvio Berlusconi volesse riportare la, pinella, sugli schermi della Mediaset. Ebbene, secondo un'indiscrezione di, fanpage, queste voci sarebbero totalmente inutile. Nonostante il figlio del cavaliere e la presentatrice siano rimasti in ottimi rapporti, Pier Silvio non starebbe minimamente pensando di riportare la Marcuzzi a Mediaset. A quanto pare, la rete presenterebbe già un grande numero di volti femminili. Da Barbara D'Urso a Belen Rodriguez, dalla Blasi alla Panicucci e Palombelli, fino ad arrivare alla regina di Canale 5, Maria De Fili. Sì, proprio per questo, Alessia non sarebbe nelle priorità del piano di cambiamento pensato dal compagno di Silvia Toffanin. A tal proposito, D'Agospia, aveva fatto sapere che Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando di compiere una, rivoluzione, nell'azienda. Attuando un presunto cambio, inoltre, pare che ai piani alti di Cologno-Monzese non sia particolarmente piaciuto il nuovo ruolo della Marcuzzi nel programma, Boomerissima. Il varietà si basa su sfide generazionali tra, Boomerse, Millennials e, nella trasmissione, La 50enne romana si è dilettata a dare dimostrazione di prove canore e coreografiche. Nonostante il discreto successo ottenuto dallo show, l'azienda non sarebbe rimasta positivamente colpita dalla performance dell'ex di Simone Inzaghi.